ben trovati a tutto il bello che c'è ascoltarsi per trovare la propria vocazione e poi affacciarsi al mondo del lavoro con le idee più chiare e maggiore competenza è quello che offrono i corsi wow totalmente gratuiti che costruiscono un ponte tra scuola università e mondo del lavoro silvia squizzato wow che vuol dire chi sei tu oggi a brescia c'è un ponte che unisce scuola università e mondo del lavoro un percorso affinché i giovani possano capire la loro strada e scegliere la giusta professione wow talentiamo è un progetto che è nato nel 2018 con l'intento di orientare i giovani nel mondo del lavoro quello che facciamo è di incontrarli dopo che hanno terminato un percorso scolastico universitario di portarli con noi in aula e di formarli con delle soft skill che sono indispensabili per entrare nel mondo del lavoro wow si differenzi rispetto altri progetti perché è gratuito questo percorso che proponiamo e anche perché cerchiamo di aiutarli a trovare la propria vocazione che vuol dire capisci qual è la tua strada e una volta che l'hai capito poi ti orientiamo e ti mettiamo in contatto con le aziende l'obiettivo è sviluppare competenze umane le cosiddette soft skill e tecniche pratiche cioè le hard skill in vari ambiti ragazzi che hanno voglia di mettersi in discussione questa è la cosa importante dei corsi wow noi durante questi corsi soprattutto io in prima persona mi occupo di inserirli nel mondo del lavoro ma facendo che cosa insegnando loro a ridigere un curriculum a prepararsi ad un colloquio di lavoro da loro una scaletta di domande che solitamente possono essere poste in sede di colloquio e quindi il motivo per il quale si sono spinti si sono candidati per quella selezione per quale motivo un imprenditore o un hr debba scegliere proprio lui quindi l'hr è la risorsa umana che ti fa il colloquio quindi preparatevi e noi durante i corsi wow prepariamo al meglio questi ragazzi dico spesso ai ragazzi la vita vuole accadere è un movimento assolutamente che non possiamo fermare possiamo decidere di interpretare la nostra vita e di costruirla come se fosse un'opera d'arte questo presuppone cercare di scovare nel proprio mondo interiore le caratteristiche i poteri le risorse che possono veramente costruire un progetto di vita che li possa rendere felice come sei arrivato ai corsi wow? sì sono arrivato ai corsi wow grazie all'università degli studi di Brescia ho avuto il piacere di partecipare ai corsi dall'inizio quindi dalla nascita dell'associazione e dopo essermi laureato appunto ho scelto di rimanere all'interno del team wow e come organizzatore eventi appunto per i giovani quest'anno abbiamo anche inserito un evento imprenditori si nasce o si diventa ed è appunto un percorso dedicato a giovani ambiziosi che hanno come sogno nel cassetto di diventare imprenditori tramite il corso wow sono riuscito a capire che effettivamente quello che volevo fare era diventare imprenditore e cercare di fondare la mia azienda come sono riuscito a farlo oggi nel settore del digital marketing grazie a wow sono riuscito a capire effettivamente che quello era quello che volevo fare nella mia vita gli studenti che abbiamo nelle aule di wow sono tendenzialmente giovani che hanno veramente voglia di trovare un posto di lavoro quindi arrivano con tanta voglia di fare e di imparare tendenzialmente lasciano le nostre aule con sicuramente delle competenze in più dal punto di vista umano personale nella gestione dei rapporti e anche competenze più verticali su quello che sarà il lavoro che andranno poi a fare a seguito del corso perché oggi un'azienda deve credere soprattutto nei giovani e ha creduto in wow perché viviamo un periodo di così forti transizioni ambientali, tecnologiche, energetiche che possono essere affrontate con un solo elemento fondamentale che è la formazione questo è l'investimento certo che possiamo fare in momenti così complessi e confusi grazie